Dal Vangelo secondo Matteo Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebroso, si prostrò davanti a lui e disse Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano, che lo toccò dicendo Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebra fu guarita. Poi Gesù gli disse, guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Sempre quando ci avviciniamo al Signore per chiedere qualcosa si deve partire dalla fede e farlo nella fede. Io ho fede che tu puoi guarirmi. Io credo che tu puoi fare questo. E avere il coraggio di sfidarlo. Coraggio per avere fede. All'inizio, se tu vuoi puoi guarirmi. Se tu vuoi. Io credo. E coraggio per avvicinarmi al Signore quando ci sono delle difficoltà. Quel coraggio tante volte ci vuole pazienza e sapere aspettare i tempi ma non mollare. Andare sempre avanti. Se io con fede mi avvicino al Signore e dico ma se tu puoi puoi darmi questa grazia e poi ma come la grazia dopo tre giorni non è arrivata è un'altra cosa e mi dimentico. Grazie.